L'asino della miata e la cinta senese ce l'hanno fatta ad allontanare lo spettro dell'estinzione. Per il mucco pisano, la pecora garfagnina e più in generale le 745 varietà autoctone di frutta, ortaggi e razze animali in pericolo su un totale di 871 c'è ancora da fare. Ma la Toscana è all'avanguardia e per questo è qui, nei 4200 ettari della tenuta di Alberese in Maremma, che esperti, coltivatori e amministratori da tutta Europa si sono dati appuntamento per i due giorni di workshop sull'agrobiodiversità, organizzati da terre regionali di Toscana, un campo in cui la regione toscana è attiva già da 20 anni. Noi abbiamo istituito la banca della terra, abbiamo la banca del germoplasma, voglio dire, e abbiamo oltre 200 coltivatori custodi che sono sparsi su tutto il territorio regionale toscano che vanno a salvaguardare tutte quelle varietà vegetali e animali dal rischio di estinzione. Un patrimonio fatto di specie pregiate come i cavalli e le vacche maremmane, al centro di una speciale lezione dei butteri, ma anche di ortaggi e verdure dalle grandi proprietà nutritive esposte nella mostra a mercato del coltivatore custode, con un obiettivo preciso, diffondere le buone pratiche di valorizzazione delle diverse varietà in vista anche di un loro possibile rilancio sul mercato. Queste risorse genetiche di cui in particolare la regione toscana è estremamente ricca sono una riserva, un patrimonio che è utile proprio per l'agricoltura. L'agricoltura è nell'ottica, ad esempio, anche dei cambiamenti climatici. Cambiamenti che rischiano di compromettere le specie e le varietà, che terre regionali di Toscana tutela con le banche del germoplasma e con la banca della terra, un catastro online dei terreni pubblici e privati, spesso in zone marginali, destinati alla creazione di nuove imprese agricole o all'ampliamento di quelle esistenti dove valorizzare l'agrobiodiversità. La diversificazione e l'utilizzazione di specie autoctone radicate al territorio e quindi collegate anche a una identità culturale dei territori dà sicuramente maggiore opportunità e maggiore speranze di successo a questi terreni, a queste realtà marginali. realtà attraverso le quali la Toscana spicca come luogo in cui ambiente, agricoltura e attività dell'uomo marciano di pari passo.